Aveva già condotto in viaggio fra i tanti affascinanti tesori dell'antichità posti sull'antica via Flaminia, dai bronzi di Pergola alla Fano Romana fino a Forunso in Proni passando per Piagge, Saltara e la stessa Pesaro. Ora l'itinerario archeologico di Confcommercio Marca e Nord, legato al più ampio progetto promozionale degli itinerari della bellezza, si presenta con una terza edizione come tre sono le novità archeologiche inserite nella nuova guida presentata al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo. Abbiamo la fortuna di avere all'interno della rete dell'itinerario della bellezza l'antica consolare Flaminia, la strada che collegava Roma a Rimini e tutti i comuni che fanno parte dell'antica Flaminia sono all'interno dell'itinerario della bellezza. È per questo che abbiamo realizzato una nuova edizione di questa guida proprio per l'inserimento anche del comune di Cantiano che è il punto di inizio nella nostra provincia dell'antica consolare Flaminia. Cantiano ha importanti reperti archeologici che sono all'interno dell'antiquarium, del museo archeologico di Cantiano ma soprattutto il territorio è molto ricco di ritrovamenti dell'epoca romana a cominciare dal ponte Riccioli che è veramente straordinario e una bellezza incredibile sulle montagne sopra Cantiano. Poi la nuova guida completa l'offerta del territorio con l'antiquarium, il museo archeologico di San Lorenzo in campo dove oggi presentiamo la nuova guida all'interno di questo splendido teatro dedicato a Mario Tiberini e poi abbiamo anche alcuni inserimenti, alcune novità. Il nuovo museo archeologico Oliveriano di Pesaro che è stato inaugurato nel dicembre dello scorso anno e poi la novità, la rete museale della via Flaminia che è questo progetto che ha realizzato la Regione Marche prevedendo la nomina di 7 direttori di rete all'interno della Regione. Noi abbiamo la fortuna di avere con la dottoressa Lani una direttrice molto competente che mette insieme, guarda caso, tutta l'offerta turistica e archeologica dell'itinerario della bellezza e del nostro itinerario archeologico. È molto importante per noi anche essere entrati nell'itinerario archeologico perché l'itinerario archeologico è molto vasto e comprende luoghi di tutta la provincia, a maggior ragione comprende anche noi che siamo tutti i luoghi e i musei che raccontano l'antica via Flaminia, appunto da Fano fino a Cantiano. Fare sempre più rete sia all'interno della città con le tante istituzioni della città di Pesaro ma anche e soprattutto con il territorio, creare una possibilità e un'occasione per cittadini e turisti proprio di conoscere il territorio nel suo insieme quindi dal mio punto di vista ma credo non solo dal mio è importantissimo avere degli strumenti che rendono sempre più facile anche conoscere la ricchezza del territorio e la rete del territorio. Noi qui siamo a tre chilometri dalla antica città romana di Suasa, abbiamo un museo archeologico del territorio appunto di Suasa qui in Palazzo della Rovere che è al di sotto di questo straordinario teatro che abbiamo alle nostre spalle e tutta la provincia in realtà, basti pensare al passaggio della via Flaminia, quindi tantissimi luoghi dove l'archeologia è protagonista. Ma non solo dobbiamo sottolineare che abbiamo tante bellezze, dobbiamo preservarle e dobbiamo mostrarle ai turisti, ai visitatori, a coloro che fanno in modo che tanta gente possa arrivare in questo territorio. Quindi il nostro dovere come amministratori penso sia proprio quello di affiliarci come abbiamo fatto noi a ConfCommercio per fare in modo che questa promozione venga fatta in maniera professionale e corretta perché è inutile tenersi dei tesori e non mostrarli all'esterno.